Salve, stavo guardando un video su YouTube proprio dell'AcuCheck, non era dell'AcuCheck mobile però insomma era un video ufficiale proprio dell'AcuCheck che spiegava come usare il pugilito e diceva di non usarlo da questa parte ma qua lateralmente, cioè praticamente così perché diceva è più confortevole in inglese, ne diceva e in effetti una delle cose che insomma non piace è il fatto di bucharellare il dito qua dove ci stanno un sacco di determinazioni nervose e dove lo usiamo noi per il tatto effettivamente la parte laterale è altrettanto irrorata di capellare quindi ha comunque il sangue con l'informazione che interessa per prendere ma da questa parte qua laterale noi la usiamo meno diciamo per il tatto perché una delle cose che può succedere è che facendosi tanti buchi tutti i giorni per tanti anni piano piano perdere la sensibilità dei polpastrelli quindi diceva di non usare questa parte qua ma usare questa parte qua, questa laterale quindi in questo modo qua usare il pugilito da questa parte qua laterale quindi o questa o questa insomma le parti laterali delle dita quindi di qua e di qua, di qua e di qua niente, è una piccola informazione che io non sapevo e che ve la rigiro in questo video va bene, ciao ragazzi, fatemi sapere, ciao ciao